Il canto degli italiani ha introdotto la cerimonia commemorativa svolta nel Salone Metaurense della Prefettura in occasione del giorno del ricordo istituito con la legge 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo Giuliano Dalmata e delle vicende del confine orientale. Credo che la giornata sia stata particolarmente utile per i nostri ragazzi ai quali consegniamo ovviamente tutta l'importanza di questo evento, di questo ricordo affinché attraverso lo studio e la memoria queste vicende, queste tragedie non abbiano mai più a ripetersi. La commemorazione celebrata, la presenza delle autorità civili e militari è stata svolta con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale in collaborazione dalla rete di scuole della provincia di Pesaro e Urbino. Questa per noi è una giornata importantissima che vede protagonisti ovviamente tutti gli studenti dell'istituto superiore di secondo grado e la professoressa Danieli una testimone una presenza molto importante che abbiamo l'onore di ospitare qui a Pesaro. Il momento commemorativo è stato caratterizzato dalla conferenza della professoressa Adriana Ivanov Danieli docente di materie letterarie a Padova che ha trattato il tema della tragedia degli italiani dell'Adriatico Orientale affrontando un drammatico evento, l'esodo Giuliano Dalmat ha spesso oggetto di due contrapposti atteggiamenti, la rimozione e la polemica politica allo scopo di collocarlo nella giusta prospettiva storica e farne oggetto di conoscenze e riflessione per le nuove generazioni. Un risarcimento morale da parte dei nostri connazionali per la nostra tragedia che è stata tacciuta noi diciamo in foivata e do piacere che succeda anche a Pesaro perché noi abitavamo dall'altra parte del mare, io sono di Zara quindi all'orizzonte vedevamo la vostra terra e viceversa voi. Dunque l'incontro con le Marche è un incontro particolarmente fraterno. La giornata commemorativa si è poi conclusa con l'intervento del dirigente scolastico provinciale Marcella Tinazzi seguito da un inno europeo alla gioia. Grazie a tutti.